L'amministrazione comunale di Sciacca e la maggioranza che la sostiene non si sono appropriate di nulla, semplicemente perché non interessati alla guerra per chi arriva prima a prendersi meriti. Non si è fatta attendere la replica all'accusa del centro-destra di avere fatto proprio un finanziamento, frutto invece del lavoro della precedente amministrazione. I gruppi consigliari di maggioranza evidenziano oggi che è stato semplicemente comunicato alla città e con estrema sobrietà la disponibilità di 1.600.000 euro per la rete idrica cittadina. Riteniamo, hanno aggiunto, che quando un finanziamento arriva a Sciacca il beneficio è di tutti e questa corsa ad impossessarsi dei meriti appare agli occhi dei cittadini inutile e puerile. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino c'è da aspettarsi altri cinque anni di polemiche politiche e anche il centro-sinistra oggi mette del suo, sostenendo che sentir parlare il centro-destra di onestà intellettuale oltre a risuonare come un evidente paradosso, suscita soltanto grasse risate. Sono le stesse forze politiche che dicono che in questi cinque anni si sono impossessate dell'intero parco progetti lasciato in eredità dall'amministrazione Bono senza mai sognarsi di proferire una parola di gratitudine o di rispetto istituzionale nei confronti di chi è venuto prima. Sulla vicenda poi del finanziamento a beneficio dell'istituto scolastico Mascagni ci sarebbe piaciuto molto di chiare il centro-sinistra che tale finanziamento fosse immediatamente disponibile così da poter restituire la scuola alla città. Ma va detto che i 368 mila euro destinati nel piano triennale regionale per l'edilizia scolastica alla Mascagni giacciono in fondo alla graduatoria di merito. Forse perché, come è stato riportato da funzionari e dirigenti dell'assessorato regionale, chi ha amministrato prima ha solamente presentato un progetto definitivo alla scadenza del bando e non un progetto esecutivo come hanno fatto altri comuni che si sono piazzati ai primi posti. L'attuale amministrazione dovrà fare salti mortali per provare ad accorciare i tempi entro i quali avere a disposizione queste somme e riqualificare il presso Mascagni. Questa è la verità, concludono i gruppi consigliari di maggioranza che poi, anche in questa occasione come in altre precedenti, accusano il centrodestra di non aver ancora accettato la sconfitta elettorale.